l'indomani alle 10 e 7 il biondone era in loco dopo aver dato una giratina fra i palmizi è l'ora che le donne sogliono provvedere a mercato in vista non solo della cena quanto anzitutto del pranzo alle cure loro imminente l'ora delle mozzarella dei formaggi delle vermifughe cipolle e dei cardi sotto la neve pazientemente ibernanti degli odori delle insalatine prime dell'abbacchio gente che vennevano la porchetta sulle bancarelle di piazza quella mattina ce n'era da San Giuseppe in poi e la stagione sua se può dire col timo e con i fiocchetti di rosmarino e l'agli non ne parlamo e il contorno ripieno di patate con l'erbetta pesta ma il biondo a capo Ciondoloni si lasciò condurre tra i berci e le arance rosse dal suo dinoccolato ottimismo sufolando in sordina o atteggiandovi appena appena le labbra tacendo un tratto levando un occhio in qua in là come a caso oppure sostava chiotto chiotto la lobbia giù a metà fronte le mani in tasca la gobba infreddolita sotto pastrano chiaro fresconcello aperto e diedero i due polsi cadente da perer coda di Marsina era un pastranuccio di mezza stagione fasulla che tirava al peloso e al morbido e riusciva l'iso in più punti contribuiva a definir l'immagine d'un bell'imbusto assonnato in cerca d'una cicca da poter fumare involtato nel turbine degli inviti e degli incitamenti alla compera e in tutte le conclamazioni di quella festa formaggia trascorse piano piano davanti le bancarelle a bacchiare oltrepassò carote e castagne e attigue montagnole di bianco-azzurrini finocchi baffosetti nunzi rotondissimi d'ariete ivi insomma tutta la repubblica erbaria dove alla gara dei costi e delle profferte i novelli sedani già tenevano il campo su molti banchi galleggiavano oramai senza tempo e senza più stagione le arance in piramidi noci nelle ceste susine di Provenza Nere lustrate col catrame susine di California alla cui sola veduta già rampollava acquolina dal retrobocca al deviti sopraffatto dalle voci e dai gridi dalla stridula combinatoria di tutte le venditrici sindacate pervenne al fine al reame antico ed eterno di Tullo e di Anco ove adagiate sul tagliere prone o più raramente supine o adormitesi di lato a volte le porchette dalla pelle d'oro esibivano i loro visceri di rosmarino e di timo o un nodulo qua e là verde nero dentro la carne pallida e tenera una foglia di menta amara pigiatavi a guisa di verdello con un gran di pepe che la grida e la udava nel bailam nuova ghiandoletta prestata loro a cucina e ad altro mercato e ad altre fiere non saputa non gli riuscì difficile ivi dato l'ottimismo in poppa che lo andava sospingendo fra il vorticar delle femmine o berate di reti colme o di sporta fronzute di broccoli non gli fu difficile ravvisare dalla descrizione della Ines e già da qualche passo lontano il tipetto il gentil trombetto che faceva proprio al caso suo era un dritto dietro la bancarella co due occhi il contrario in quel momento della paura e della timidezza che aveva decantato la Ines e con la zazzera fitta fitta e straunta tutta da una banda insieme la nonna stava alla cima ricaduti un poco sulla fronte i fili dei capelli si erano arricciolati come in salatina dopo il capriccioso ritocco del pettine o come il rotolo d'una lama di maretta allorché la ribolle un attimo prima di impigliarsi e recedere e abbandona infine l'arena una barannanza bianca lo affagottava un tantino e tramente strillava stava a filare i cortelli uno lungo uno corto e intanto lo guardava a lui ar biondone ma senza d'assegno di vederlo per capoccione bionno scuro co qua lobbia da cavadenti specialista che gli scendeva fino sul grugno io s'era piazzato avanti a debita distanza con le mani in saccoccia era di sicuro uno che aveva la fantasia di mangiare la porca ma si non teneva i sordi povero micco poteva puro morire della voglia la porca la porca c'avevo la porchetta signori la bella porca della riccia con un bosco di rosmarino in della panza con le patatine de stagione la stagione se la sognava lui erano le patate vecchie fatte a pezzi tutte puntolini di prezzemolo infisate nella grascia della porca patatine de stagione so ricava ieri e consiglieri so respose mie belle che son meglio che l'ova tosta per l'insalata meglio dell'ova degli capponi so ste patate vo dico io assaggiatele posava un attimo a riprender fiato e poi a scoppio uno e novanta letto la porca è una miseria signori roba da far vergogna signori a chi venne a chi crompa uno e novanta letto più meglio fatto che detto fame savanti colibba gli occhi alla mano so respose chi non magna non guadagna uno e novanta letto la porca carne fine e diricata per i signori proprio assaggiatele e proverete vo dico io so respose carne fine e saporita chi prova c'ha riprova il guadambio è tutto vostro la bella porca signori porchetta rosto con rosmarino e con le patate di stagione e dandosi requie dopo la strellata a parte fatta anche l'attore tragico posa ripigliò serio serio a affilare i cortelli ma dopo dubbotte i cortelli ebbe un ritorno di fiamma un sussulto lo scosse fu il deflagrare ed una ulteriore variazione o tale parve alla gente ad occhi bassi provatela signori assaggiatela 1 e 90 letto ve fate una magnata di porca che vostra moglie va ringrazia poi a una belloccia discendendo di tono che volete bella buba la buba a quel tono d'autorità non pote comprimere le risa una mezza libra di porchetta e sottovoce a lei ma con un'occhiata allo squattrinato cavadenti a voi vedo er meglio boccone voi giuro mi piacete troppo siete troppo buona un bocconcino arrostito apposta per voi con due patate poi di nuovo eternamente berciando e con occhi al cielo stavolta con delle gote da bucinatore senza senso fame sacro un po' la porca signori famose cacciare i sordi che la porta è buona signori che una vergogna la solla qui sul banco che a momenti a ripiove che ciò so io che ci avete un sacco un saccoccio dei bagliocchi famanna via la migragna signori la porca è vostra si è che cacciate li bagliocchi e